Finalmente fu fatta la legge che istituiva questa commissione mitrodini e io lì mi trovai a scoprire che tutta l'Italia era putiniana e filorusso e poi mi dovetti rendere conto che io stavo in guerra, io non volevo essere in guerra con Putin ma mi trovavo in guerra e questo capogruppo, allora si chiamava PDS, il simpaticissimo, adorabile, onorevole Walter Bielli, Emiliano, che con lui correva una corrente di simpatia e lui una volta mi prese da parte e mi dice ma il senatore, ma il presidente, ma cosa vuol mettersi contro Putin? Ma non lo vedi che siamo tutti quanti dalla parte di Putin? La destra si muoce tutti per Putin, la sinistra noi comuni siamo tutti per Putin, la destra e la sinistra e lei si mette in mezzo contro Putin ma qui non la fa fare? ma si vuole rompere la testa e io mi rompio la testa, infatti la cosa finì che ammazzarono lì finito, era furioso perché in Italia avevano fatto una commissione che si permetteva di indagare sul KGB